Bentornati, io sono Massimo Gramellini e questo è l'Ammazza Caffè. Ma che fine ha fatto, mi hanno scritto lettori, ascoltatori? Beh, è successa una cosa che non mi capitava dai tempi ormai lontani a me della scuola. E cioè, l'ultimo giorno di vacanza mi sono ammalato. La classica influenza orologeria che però mi ha permesso di allungare di qualche giorno così le ferie. Ma ora sono qui e non vi libererete tanto facilmente di me. Né di me, né dell'Ammazza Caffè. Ricominciamo. L'Ammazza Caffè, il sabato di giorno per giorno con Massimo Gramellini. E ripartiamo con divieto di smartphone. Mi associo idealmente ai firmatari della petizione che chiede di proibire l'uso dello smartphone ai minori di 14 anni e l'apertura di un profilo social ai minori di 16, estendendo il divieto già imposto dal governo agli studenti delle scuole medie. Aderisco all'appello, ma di fatto solo per il trasporto romantico che suscitano le cause perse, perché tutti, a cominciare dai bravissimi pedagogisti che lo hanno scritto, Novara e Pellai, saranno d'accordo con me nel riconoscere l'impossibilità che una società permissiva come la nostra riesca a vietare proprio la cosa che i ragazzi desiderano sopra ogni altra e a cui noi adulti per primi non siamo più assolutamente disposti a rinunciare, avendo delegato allo smartphone molte funzioni essenziali della nostra vita. Ecco, potrei aggiungere praticamente tutte, tranne telefonare, che ormai è l'unica cosa che non si fa con il telefono, Tutto il resto lo facciamo per telefono. Una petizione che si accontentasse di proporne un uso più responsabile e magari prevedesse una patente, come si fa per auto e motorini, sarebbe forse un po' meno irrealistica, per quanto lo smartphone sia stato pensato dal genio non del tutto benevolo di Steve Jobs proprio per creare dipendenza. Di sicuro quell'oggetto che in italiano non ha neanche una parola che lo definisca, perché cellulare è generico e telefono è appunto limitativo, anzi ormai quasi fuorviante, ebbene quell'oggetto ha deliberatamente sostituito la comunicazione con la connessione, due termini che non sono affatto sinonimi, perché si può essere iperconnessi e sentirsi terribilmente soli. L'importante è però cominciare ad averne consapevolezza e forse le petizioni impossibili come questa di, firmata da moltissimi anche personaggi del spettacolo, servono proprio a questo, a parlare di un problema, anzitutto rendendosi conto che c'è un problema. Molte le reazioni, perché come immaginavo è un tema che riguarda la vita di tutti, molte anche da parte della scuola, vi cito due insegnanti che hanno posizioni diverse, Maddalena Margaria o Margaria, scrive, da insegnante delle medie gli dico che la causa sarà anche persa, ma è necessaria, perché i danni dei social, verso chi non è ancora in grado di gestirne il peso, noi li vediamo ogni giorno. Cara Maddalena, sono d'accordo con lei, ma non solo nei confronti dei ragazzi, perché anch'io, che proprio ragazzo non sono più, faccio davvero fatica a gestire il peso di una piazza urlante, dove le uniche due posizioni possibili sembrano essere o evviva o a morte, cioè gli estremi, per cui sui social, a specie poi capita, non solo i personaggi pubblici, ma in particolare i personaggi pubblici, o sei esaltato, o sei trattato come uno che merita le peggiori cose, quindi è davvero una sensazione, una doccia emotiva, una montagna russa emotiva inaccettabile. Giulia Maccio ha invece una posizione diversa, ma anche lei è un'altra insegnante, proibire, dice Giulia, non serve, non è mai servito, bisogna educare all'uso dei social, e laddove la famiglia non riesca a farlo, ci deve pensare alla scuola. Il problema è sempre come, perché non è così facile riuscire a maneggiare quell'arma, è come se ci fosse stata data in tasca una pistola, ma non il giubbotto antiproiettile, e neanche le istruzioni per usarla, quella pistola, ahimè. Sara Graffione scrive, conosco tanti genitori che hanno permesso ai figli di 14 anni di aprire profili social, mettendo i dati di nascita loro, quelli degli adulti. Ha scritto bene lei, noi grandi per primi abbiamo un problema da risolvere. Come se ce l'abbiamo, bisogna partire dalle piccole cose, penso che ognuno di voi avrà una sua strategia. A casa nostra, alla nostra famiglia, la regola è che neanche noi adulti, neanche io e mia moglie, a tavola possiamo usare il telefonino. Può anche succedere che io sto cenando, magari mi sta chiamando il direttore del corrido della sera, perché ho appena mandato il mio articolo, lo sto mandando, ma io tengo duro, tutti a tavola mi guardano, vuoi dire, guai a te, e quindi aspetto di finire, di arrivare alla fine del pasto. E queste sono piccole regole, non è che cambiano nulla, però aiutano, diciamo così, creare un minimo di disciplina. Alessandro Spano, vietare è la via più semplice, perché educare risulta terribilmente faticoso. Sono gli adulti il vero problema, anche lui dice questo, perché non ne fanno nemmeno loro un uso consapevole, perché sono gli adulti, aggiunge, che spingono verso gli smartphone già i bambini molto piccoli, così da non doversene occupare. Anche questo è verissimo, naturalmente anche qui, qualche mamma e qualche papà potrà dire, sì, provaci tu, però in certi giorni in cui hai 3.000 cose da fare, nessuno che ti dà una mano ad avere un figlio di piccolo che per 16 ore ti sta vicino e vuole la tua totale attenzione. Certe volte, anche lì, la televisione e anche qualche volta il telefonino vengono in aiuto. Come sempre, bisogna avere un uso consapevole, cioè, bisogna rendersi conto di quello che si fa. Come dice un mio amico, un medico nutrizionista, il problema non è mangiare il dolce, e quando mangi il dolce devi essere consapevole che stai mangiando una cosa che ti può far male. Dopodiché lo fai, ma se ne sei consapevole magari non esageri. Ecco, questo è il principio, almeno la speranza o la scommessa. Chi invece ha sicuramente esagerato è, diciamo così, il funzionario del gruppo Stellantis, protagonista in qualche modo del prossimo caffè, intitolato L'Operaio in Maserati. Esercizio di meditazione. Immaginate di essere un operaio della Fiat in arte Stellantis. Magari addetto alla linea Maserati, magari incasso indecrazione. Poi, immaginate di aprire una mail aziendale che vi proponga con linguaggio garrulo di acquistare a condizioni di favore una Maserati grecale, Gran Cabrio, Gran Turismo, a eccezione delle personalizzazioni fuori serie. Quindi, bisogna accontentarsi dei modelli non personalizzabili, ancorché istituabili fra gli 80.000 e i 120.000 euro, cioè tra gli 80 e i 120 stipendi netti degli operai in casa integrazione. Immaginate che i vostri sensi estenuati si mettano allerta sospettando lo scherzo e aspettando da un momento all'altro il colpo di scena rivelatore e che invece, contro ogni previsione dettata dalla logica e dalla decenza, la mail si concluda con un entusiastico «La nostra straordinaria gamma ti aspetta!» Arrivate al punto esclamativo, rendetevi conto che purtroppo è tutto vero e respirate profondamente. Ecco, adesso immaginate di essere voi l'impiegato di Stellantis che ha spedito la mail oppure il funzionario che l'ha scritta oppure l'alto dirigente in Maserati che l'ha pensata. Visualizzate i loro sorrisi accattivanti, i loro sguardi spalancati sul vuoto, contemplate il loro paesaggio esistenziale totalmente sganciato da qualsiasi cosa assomigli non dico alla sensibilità ma alla realtà. Tutto bene fin qui? Appena sentite che la vostra immedesimazione in quei personaggi è completa, ordinate una Maserati e mettetegliela in conto. Ho volutamente fatto un finale così con un sorriso per non schiacciare fino in fondo il pulsante dell'indignazione che in casi come questo suona inesolabile. I lettori invece, diciamo, non avendo questo mio scrupolo perché appunto giustamente devono reagire a un racconto più che non farlo si sono permessi il lusso di essere invece molto molto arrabbiati e molto molto indignati. Carlo Giorgioni è arrivato a scrivere che ha scritto questa mail si potrebbe denunciare per estigazione all'omicidio e Mimma lo Grippo fa un riferimento storico alla Revoluzione francese e dice questa vicenda me ne ricordo un'altra proposta della fame del popolo e cioè a chi non aveva il pane si propose di mangiare le brioche la differenza fu la drasticità dell'epilogo Maria Antonetta finì alla ghilottina anche se secondo gli storici di oggi insomma questa frase non è vera è stata attribuita a lei ma probabilmente lei non l'ha mai pronunciata non abbiamo però naturalmente nei video poi non aveva gli occhiali della dottoressa Boccia Maria Antonetta quindi non possiamo scoprire retroscena di cosa può avere detto nelle stanze di Versailles Riccardo Cetica dice l'ennesima dimostrazione che la classe dirigente è fuori dal mondo sono d'accordo con lei Riccardo e vabbè niente cosa diciamo che non c'è altro da dire non mi pare che tutto quello che si doveva dire è lì cioè fuori dal mondo fuori da qualunque senso di umanità di decenza ma direi proprio di principio di realtà voi cosa ne pensate questo è il titolo del prossimo caffè il ministro dei trasporti forse per competenza vista l'arma del delitto è intervenuto sul caso della signora di Viareggio che ha investito un borseggiatore con lo suo automobile schiacciandolo contro una vetrina e poi passando di sopra ben quattro volte questo dramma scrive Salvini ai suoi follower è la conseguenza di un crimine se l'uomo che ha perso la vita non fosse stato un delinquente non sarebbe finita così voi cosa ne pensate ecco dal momento che me lo chiede signor ministro io penso che ci mancherebbe ancora che la gente andasse in giro a investire i passanti così per svago ovvio che la signora di Viareggio ha reagito a un'azione criminale lo scippo della sua borsetta ma il punto che dovrebbe attirare la nostra attenzione e magari anche la sua è che lo ha fatto in modo folle e sproporzionato certamente non giustificabile neanche con il clima di insicurezza che si respira per le strade e che peraltro aspetterebbe ai governanti modificare antiché limitarsi a denunciarlo come se fossero loro sì dei passanti qualsiasi qui siamo ben oltre la legge del taglione che sanciva una sorta di parcondicio occhio per occhio dente per dente qui siamo al furto punito con sentenza di morte immediata per di più combinata ed eseguita dalla parte offesa come neanche nelle tribù preistoriche forse dovremmo cominciare a chiederci chi con pensieri parole opere e omissioni alimenta il serbatoio del rancore di tanti cittadini persino di quelli in apparenza più miti lei cosa ne pensa al signor ministro hanno risposto molti lettori devo dire che immaginavo che ci fossero delle reazioni più variegate che qualcuno desse ragione non tanto che giustificasse la signora ma che desse ragione al taglio scelto da Salvini che dice per carità la signora ha sbagliato però tutto nasce dal gesto del delinquente che comunque di fatto suona come una forma di circostanza attenuante che detta da un ministro fa un po' venire i biviti tra l'altro detta da un ministro che normalmente invece è per delle posizioni molto dure quando si parte di mettere le persone in carcere e far rispettare legge e ordine ecco qui invece cerca un po' le attenuanti Maria Grazia Zanon dice in base al ragionamento di Salvini quante volte si dovrebbe passare sopra chi ha sottratto 49 milioni di euro all'erario e qui riferimento immagino sia una vicenda che riguarda la Lega sia chiaro che non dico assolutamente che si dovrebbe fare cerco solo di mettermi nei panni del nostro rigoroso ministro vabbè Antonella Forlani mi sgomenta la ferocia della gente per bene tra virgolette le virgolette le mette la signora quella capace di commettere un omicidio in risposta a uno scippo ma anche quella che giustifico addirittura approva questo modo di agire ecco gente che la approvi per fortuna io non ne ho incontrata nessuna qualcuno però come abbiamo visto che invece in qualche modo alla giustifica purtroppo si Monica Barolo la capacità di analisi delle situazioni da parte di alcune persone mi sorprende non so mai decidermi se sia mancata l'istruzione la presenza della famiglia il supporto degli educatori un briciolo di empatia l'intelligenza emotiva la voglia di apprendere e quella di confrontarsi con gli altri e casi in cui tutte queste mancanze paiono concentrarsi e le posizioni di chi le pronuncia sono posizioni guida di un paese mi sconcertano e bene si tratta questa riflessione della nostra ascoltatrice io l'ho fatto anche a proposito dei fatti di cronaca come quello del ragazzo non avevo ancora ripreso la massa a caffè ma il ragazzo di Paderno quello che ha ucciso la famiglia perché in quei casi si intervistano gli esperti è la colpa della famiglia la scuola la società poi ti chiedi davvero a certe volte quanto sia proprio anche in certi casi un groviglio inestricabile di cause che a loro volta poi diventano effetti che a loro volta diventano cause di qualcos'altro insomma la natura umana è davvero un labirinto Alessio Ferron dato per buono che l'azione della signora rientrasse nel campo della legittima difesa va ricordato al ministro che in Italia la difesa va commisurata all'offesa ecco il problema è che bisogna ricordarlo a un ministro questo il ministro come ha solito si arrampica sugli specchi pur di difendere il suo pensiero che è indubbiamente arcaico però in questo caso almeno dalle vostre reazioni ma non solo dalle vostre parrebbe anche un pensiero che forse a sorpresa anche per lo stesso Salvini sta diventando minoritario perché è stata talmente enorme la reazione di questa signora Viviareggio che davvero riesce difficile non dico giustificarla ma anche solo mettersi lì a fare un ragionamento perché insomma voglio dire no non è una reazione impulsiva se mi passi quattro volte sopra con la macchina c'è qualcosa di più vi mando un carissimo saluto ci risentiamo nel prossimo weekend con il prossimo Ammazza Caffè questo era l'Ammazza Caffè il sabato di giorno per giorno con Massimo Gramellini giorno per giorno è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Francesco Giambertone coordinamento di Tommaso Pellizzari produzione di Carlo Annese con Manuel Iannuzzo a cura di Tommaso